Ciao ragazzi! Faccio questo video perché se segui questo canale da un po' di tempo, forse ti sarai accorto, o forse no, che mancano totalmente i vlog. Quindi i video dove io parlo direttamente con te, ti rispondo a delle domande, ti lancio degli argomenti, ci offendiamo, no? Tutte le cose normali di YouTube, insomma. Mancano in questo canale e in effetti rimarrà così. Sì, rimarrà così perché va bene così, nel senso che in questo canale troverai sempre dei video che fanno parte di una serie ufficiale. Quindi dei video che hanno una trama, uno svolgimento e una fine. E va bene così. No, però faccio questo video per avvertirti che noi abbiamo anche un secondo canale. Abbiamo un canale che si chiama Soliti Sospetti Extra. Che cosa puoi trovare in quel canale? Puoi trovare, giustamente, tutte le cose che non ci sono qui, cioè tutti gli errori, tutti i backstage, tutti un po' i segreti dei video che troverai su questo canale. Ma il vero motivo per cui faccio questo video, ora ci arrivo, eh, ci sto arrivando, è che mi piacerebbe parlare direttamente con te, risponderti a delle domande. Non lo so, se nel tempo hai sempre avuto delle curiosità o delle domande che volevi fare, ecco, sono qui che ti posso rispondere direttamente. Non lo so, se volevi chiedere che tipo di programma utilizzo per montare i video, che tipo di programma utilizzo per gli effetti, che attrezzatura utilizziamo, come giriamo, quando giriamo, come nasce un video, un personaggio, non lo so. Tu, qualsiasi cosa, anche domande stupide, anzi, meglio perché sennò tu parli, eh. Quindi lascia un commento qui sotto, fai tutte le domande e tutte le curiosità che ti vuoi levare, io ti risponderò direttamente nel canale degli Extra con un video interamente dedicato alle vostre risposte. E magari da qui in avanti potremo anche andare avanti e se hai delle domande, se no se non ce l'hai, vabbè, se non ce l'hai avrai già chiuso il video, è un po' di tempo, quindi praticamente non ti sto parlando. Vabbè, allora io ti aspetto nel canale degli Extra e mi raccomando, eh. Ciao ragazzi! Buongiorno ragazzi, mi raccomando, quando fate i vlog, spengete il cellulare o almeno ammutolito, lo zittatelo un po' perché veramente ho fatto il vlog, il primo vlog che faccio mi ha chiamato il mondo, mi ha chiamato il mondo, vabbè.